amici bentornati sul canale 9000 giri elaborazione autosportive dopo la pausa estiva siamo di nuovo tornati operativi dopo un bel po di vacanze durante le quali non vi abbiamo abbandonato perché abbiamo fatto uscire i nostri consueti due video settimanali comunque adesso diciamo siamo di nuovo operativi a livello di lavori da svolgere sulle macchine iniziamo con questa bmw serie 4 la serie 4 e 20 quindi con un motore 2000 turbo è una macchina che il cliente ci ha portato per un problema meccanico relativo appunto la turbina turbina probabilmente è una macchina che ha su un po di chilometri tenuta bene comunque devo dire che la macchina è stata tenuta bene lo si vede anche appunto sia dalla parte estetica sia dai vari dettagli quello che purtroppo è successo è probabilmente un cambio olio sbagliato quindi fatto fare da diciamo un un'officina non specializzata o quantomeno da qualcuno che non ha tenuto conto delle specifiche dell'olio è bastato un cambio olio con un olio non adatto e ha creato problema sulle bronzine del della turbina quindi i problemi della turbina sono di due tipi o il fap che si intasa a questo punto è secondo sulle macchine diesel la diciamo la causa principale questo benzina vabbè però diciamo che la causa principale delle rotture turbo che noi abbiamo è proprio per una come dire un innalzamento delle temperature dovuto al al fatto che il fap è saturo non è il caso di questa macchina perché ovviamente non ha il fap in questo caso il problema deriva dal tipo di olio che è stato utilizzato che percentualmente fatto cento le le problematiche sul turbo più o meno del 30 per cento cosa succede non non si ha una come dire una rottura così grave come come quando si intasa il fap però le bronzine chiaramente vengono lubrificate in maniera diversa l'olio a una viscosità diversa e meno fluido e quindi a poco a poco la lubrificazione crea un problema sulle bronzine che cominciano a fischiare nel caso appunto di questa macchina qua quindi bronzine che fischiano bisogna ovviamente smontare la turbina procedere alla revisione quindi in questo caso la grossa differenza come ho spiegato tante volte rispetto a una rete ufficiale se voi portate questa macchina qua in rete ufficiale loro non hanno un servizio di revisione di parti meccaniche nello specifico sulle turbine vi dicono la turbina è andata va sostituita con una turbina nuova ovviamente con dei costi decisamente superiori in questo caso invece le turbine si possono tranquillamente revisionare sono pochissimi casi proprio laddove c'è una una rottura una crepa del del carter ma sono veramente pochi in questo caso ovviamente non è che si può saldare il carter ma va proprio cambiato a limite si cambia proprio il carter quindi sono abbiamo revisionato centinaia di turbine a memoria quelle che mi hanno dovuto proprio sostituire comprando le nuove e facendo appunto un lavoro magari di modifica si contano sulle sulle ditte di una mano quindi generalmente nel 99 per cento dei casi la turbina è revisionabile con costi più bassi in questo caso come vi ho spiegato tante volte gli step sono tre quindi c'è la revisione base dove appunto la turbina viene smontata viene cambiato completamente la parte centrale ovviamente vengono cambiate le bronzine e viene montato il key di lubrificazione maggiorato proprio per evitare nel corso del tempo questo tipo di problema di scarsa lubrificazione poi lo step successivo riguarda il fatto di cambiare la girante in avianal cosa che abbiamo fatto su questa macchina quindi viene montata una girante dello stesso diametro però molto più leggera con molto meno inerzia con un numero di palette una lavorazione delle palette fatte in maniera diversa in modo tale da avere una spinta un corpo una 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 ripresa decisamente diverse pur non andando a toccare la parte elettronica quindi questo tipo di lavoro lo si può fare anche a prescindere dal fatto che uno voglia poi fare anche la parte elettronica oppure lo si può fare con una macchina rimappata in questo caso si guadagna qualcosa di più anche a livello di potenza avendo diciamo la paletta più lunga entra più aria nel nel carter di aspirazione quindi non si parla di potenze esponenziali però diciamo che in questo caso una decina di cavalli in più senza aver toccato la parte elettronica sicuramente il cliente li ha guadagnati quindi abbiamo risolto questo problema a livello economico ripeto io non parlo mai di prezzi perché dipende sempre molto anche dal tipo di turbina in questo caso questa è una turbina particolare che ha un attuatore elettronico quindi non la classica wastegate diciamo pneumatica ma un attuatore elettronico e quando facciamo questo tipo di lavori andiamo a revisionare anche l'attuatore quindi i prezzi non sono tutti uguali non è che il costo di questa turbina è uguale a quello di una di una giulietta 1400 turbo piuttosto che una golf ogni turbina ha le sue caratteristiche ai suoi costi perché i ricambi sono diversi a seconda proprio della del seriale della turbina in ogni caso posso dire tranquillamente che fra mano d'opera e costo del turbo il cliente ha speso meno del 50 per cento ci ha fatto vedere il preventivo che gli ha fatto che gli ha fatto bmw ha speso meno del 50 per cento di quello che avrebbe speso in bmw il risultato è stato chiaramente turbina nuova ma con in più anche l'upgrade della girantina quindi con anche maggiore prestazione quindi io direi che come tipo di lavoro è assolutamente centrato nel primo momento abbiamo fatto solo questo tipo di lavoro non c'è chiesto di fare modifiche sulla parte elettronica o scarico quant'altro abbiamo fatto un lavoro di riparazione con un piccolo upgrade nell'ambito delle diciamo delle dell'incremento di prestazioni direi che per oggi per questa bmw 420 è tutto per qualunque informazione come dico sempre cliccate sulla campanella iscrivetevi al canale perché vi chiediamo proprio un aiuto abbiamo avuto un ottimo risultato durante le vacanze abbiamo avuto un incremento esponenziale di coloro che sono iscritti quindi vuol dire che il lavoro che stiamo facendo interessa e quindi vi chiediamo sempre di rimanere di rimanerci di rimanere collegati con la nostra con nostro canale per qualunque tipo di informazione mi trovate sempre in sede 0 2 7 3 8 3 1 7 5 un saluto ciao